. Soleil Sorghe, effusioni al concerto con Marco Cartasegna, l'incontro con Luca s'avvicina. Soleil Sorghe, effusioni al concerto con Marco, l'incontro con Luca s'avvicina. Sembra passato un secolo da quando Luca Onestini e Soleil Sorghe si promettevano amore. Eppure, non sono cent'anni, ma solo una manciata di settimane. . Fatto sta che da allora di cose ne sono cambiate, l'italo-americana si è messa con Marco Cartasegna, mentre Onestini viaggia verso la finale del grande fratello Vip, dichiarandosi sereno e tranquillo dopo la burrasca sentimentale. . Nel frattempo Soleil e il suo nuovo compagno stanno vivendo una bella storia d'amore. . Solo poche ore fa, ad esempio, i due sono andati assieme al forum di Assago per assistere al concerto del maestro Ennio Morricone, rendendosi protagonisti di un siparietto simpatico e affettuoso. . Ma per le ex corteggiatrici incumbe anche l'incontro-scontro con l'ex. . Andiamo a scoprire tutto. . . . Marco e Soleil uniti al concerto, intanto sale l'attesa per l'incontro tra la Sorghè e Onestini. . Soleil e Marco si sono resi protagonisti di alcune Instagram stories dove hanno mostrato ai fan stralci della loro presenza al concerto di Morricone, con tanto di scherzetti e gesti affettuosi. . . Il nuovo amore sembra procedere a gonfie vele e sembra farsi sempre più solido. . Tuttavia, a breve, la Sorghè dovrà con ogni probabilità fare un passo nel suo passato. . 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